Questo braccio in extra rotazione, togliendo il tempo a Tino Ornaut, quindi cancella la murata di prima ma la palla era più alta, passando bene Botto. Jacopo Botto, Salvatore Rossini, Bruno serve Tino Ornaut, lo appoggia sul muro, Bruno sceglie l'attacco da parte di Pinali. Difende però Jacopo Botto, Wolce verso Zavoro Nocche, prolunga, vola Rossini, di pugno Bruninho, l'attacco di Erwin Gabbett. Palla fantastica e punto per l'Azimuth Modena con numero 13. Su questo pallone specialmente le scelte sono A. Non salto, B. Se salto, salto bene e non scomposte. Palla che schizza via, palla che passa in mezzo al muro.